Ciao, sono Nando il Telecomando. Attenti al buio! Dal 10 ottobre al 4 novembre, il vecchio segnale TV si spegne per sempre e si accende la TV digitale in tutta la Liguria. Nello specifico, dal 10 al 13 ottobre, Imperia e provincia. Dal 14 al 17 ottobre, parte della provincia di Savona. Dal 18 al 20 ottobre, Valle Stura, Valle Scribia e Valtrebbia. 21 ottobre, Sestri, Levante e Zone Limitrofe. Dal 24 al 25 ottobre, Savona e la restante parte della provincia. Dal 26 al 28 ottobre, Genova e Levante Genovese. Dal 3 al 4 novembre, La Spezia e provincia. Tenetevi pronti! Basta un decoder o un apparecchio TV con decoder integrato. E se hai dubbio per sapere quando il tuo comune è coinvolto, chiama il numero verde 800 022 000.